Ed eccoci qui ragazzi e ragazze in compagnia del vostro Diabrotex per iniziare questa nuova serie su Megaton Musashi Wirehead ovviamente in versione PlayStation 5 anche perché credo sia l'unica PS4, non credo esista comunque ragazzi questa è la versione PlayStation 5 Allora, nuovo titolo dei Level 5 che noi conosciamo benissimo e quindi possiamo iniziare io ho ritoccato un attimino prima di iniziare a registrare qui il gameplay perché il volume era veramente troppo altissimo e quindi era impossibile parlare, quindi possiamo iniziare con questo primo episodio spero che sia di vostro gradimento questa serie, vediamo un attimino, vediamo un po' è anche sottotitolato in italiano quindi non ci si può lamentare, non ci si può lamentare è anche sottotitolato in italiano Non ci si può lamentare, non ci si può parlare, non ci si può lamentare in realtà è anche sottotitolato in italiano mi pensavo che ci sono come se stesse. Mi pensavo che aveva tutto il tempo potente di avere tutte le quali, perché… è anche sottotitolato in italiano e al luogo di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' ragazzi, qui allora i comandi... Ah ok, ma iniziamo subito? Iniziamo senza perdere tempo, vediamo un po'? Vediamo un po' qui, no perché... Ah ok, inizio del tutorial battaglia, ottimo! Beh, graficamente ragazzi, sembrerebbe ben fatto, eh? Sposta, salta, poi qui abbiamo la visuale e abbiamo fatto il primo step, vediamo un po'. Allora, sposta, salta, visuale e aggancia, perfetto! Dovrò ricordarmi di tutto, eh? Prova a saltare, via! Ah 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 ah, va bene! Attacco in mischia... Vabbè, con il quadrato, classico! R2 per sparare, vediamo un po'? L2 per mirare, qui abbiamo la spinta... Ok... L1 per mettersi in guardia, sposta... Ah ok, dobbiamo proteggerci, vediamo un attimino... Con il tempismo giusto, magari, eh? Eh sì, per forza! Tieni premuto triangolo, apri la ruota delle armi... L con la ruota delle armi, seleziona arma... Durante la selezione, cambia arma, vediamo un po' allora, eh? Possiamo cambiare arma... Cosa mettiamo ragazzi? Cosa vogliamo inserire qui? Vediamo un po'? Andiamo... Perfetto! Possiamo curare... Ottimo! L1 più quadrato... Wow! R1... Ah ok! Ne abbiamo di mosse da fare qui, eh? Con questo si conclude il tutorial battaglia... Usa le conoscenze apprese per aggiudicarti la vittoria assoluta! Veloci ragazzi, eh? Senza perdere... Ah, quindi adesso passeremo allo scontro, vero? È proprio! Ottimo! Veramente ottimo ragazzi! Proviamo, eh? Stai buono, eh? No, devi stare tranquillo! Devi stare veramente tranquillo! Dov'è? Ah ok, l'abbiamo fatto volare, quindi tutto a posto ragazzi! Ha un po' di energia, ma... Non lo vedo molto... Ok? Fantastico, fantastico! Allora... Dobbiamo... Vabbè ho 5 pozioni, dovrei avere, no? Sì, ne ho 5, non vorrei usarle... Poi vediamo un po' come si metterà qui la battaglia, insomma, eh? Vediamo un po' come si metterà... Allora... Eh, devo ricordarmi un po' tutto ragazzi, non è che... L1 più cerchio, vediamo un po'? Molto molto bene, vediamo... No, mi devo curare un attimino... Fermi, fermi... Ah, ok... È il più forte, no? Ma abbiamo vinto, quindi... Non credo sia il più forte ragazzi, eh? E beh... Non credo... Sì! Eddice non c'è... ... ... ... Grazie a tutti 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 Benissimo allora oggetti Non possiedi oggetti Ok Qui cosa abbiamo? Lo store No vabbè non acquisteremo nulla Altri oggetti in arrivo prossimamente Assolutamente no Database controlla le informazioni Grazie a tutti No abbiamo 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 Anche sì forse il robot che abbiamo sconfitto Anche sì forse il robot che abbiamo sconfitto vediamo un attimino Ah ok con il menu Quindi fai attimino Ok vediamo un attimino I regalo Nessuna delle nuove funzioni e missioni E goditi tutto quello che Megaton Musashi Wired ha in serbo per te Fantastico Non ci saranno sicuramente problemi Adesso dove andiamo? Rango giocatore 1 Quindi ne avremo da fare Allora sposta, esamina E scatta Quindi io vado avanti Sì andiamo avanti ragazzi per non tornare Di certo dietro Sì Oh? C'è qualcuno di questo? Se poter farlo, ci sono i tuoi amici, ci sono i tuoi. Ci sono i tuoi. Cosa? Ci sono i tuoi. Il tuo posto è la barra della missione. L'icona mostrata sullo schermo ti guiderà verso la tua prossima destinazione. Anche la destinazione attuale è indicata nell'angolo in alto a destra. Benissimo. Usale per avanzare nella storia. Mentre giochi, la barra della missione si riempie. Quando è piena, la storia prosegue. Bene. Dovrò ricordare di queste cose, ragazzi. Ne dovrò tenere a mente. Comunque, allora, adesso torneremo a casa. Torneremo a casa perché forse dovrà farsi una doccia che forse è meglio, eh. Qui? Vabbè, andiamo verso la missione principale. Su. Allora, menu principale. Premendo triangolo in città si apre il menu principale. Da dove? Puoi usare una serie di app. Ok. Con il progredire della storia otterrai altre app. A un certo punto non basterà una sola schermata per tutte le tue app. Quindi, puoi passare da una pagina all'altra con L1 ed R1. E puoi anche usare il quadrato per cambiare la loro disposizione. Ok. Io vado avanti e poi magari in qualche negozio ci entreremo più avanti sicuramente. Però adesso andiamo nella mia abitazione perché abbiamo da fare. Ok. C'è abbastanza buono! Mi sono Asuna, per farlo di riuscire. Asuna è un po' di questo tipo. C'è un po' di dolore. Non, 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 non. è un'impeccato no è un'impeccato è un'impeccato allora, io sono qui allora allora, ci vediamo poi ci vediamo qui qui è un'impeccato che cosa è che è un'impeccato è un'impeccato è un'impeccato l'impeccato 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 c'è un'impeccato poi ci vediamo l'impeccato che è è un'impeccato e con Siamo tornati in gioco, ragazzi. Ottimo, allora, forse lì quando, se si riempie il robot tutto colorato, possiamo continuare verso la storia, verso la missione principale. Dovrebbe essere così, poi lo scopriremo più avanti, ragazzi. Lo scopriremo più avanti. Dove si va? Ah, si va qui, giustamente. Stanza di Yamato, via. Andiamo, ragazzi. Speriamo che la casa non sia in disordine, perché... Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Speriamo. Ragazzi. Speriamo. 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 Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Speriamo. Speriamo. Speriamo, ragazzi. Speriamo, ragazzi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti